Ufficializzato nel comune di Silvi il nuovo assessore al posto del dimissionario di una settimana fa, ovvero Massimo Santone, un assessore qual è Andrea Dicenzo che andrà a ricoprire il delicato ruolo di assessore al turismo in un comune importante come quello di Silvi, Sindaco Scordaleco. Intanto da dove partire, da dove iniziare, soprattutto con l'inizio della stagione balneare? Sì, innanzitutto permettetevi un ringraziamento del lavoro svolto a Massimo Santone. Oggi naturalmente abbiamo nominato il nuovo assessore che è Andrea Dicenzo proprio per un segnale di continuità del lavoro svolto. Essendo Andrea Dicenzo collaboratore già di Massimo Santone, dunque abbiamo la possibilità di andare avanti, un segno di maturità anche per i programmi che avevano messo in piedi per quest'estate. Siamo convinti che il lavoro fatto, diciamo, verrà presentato nei prossimi giorni e dunque un segno sicuramente di maturità da parte dell'amministrazione comunale per la nuova scelta. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il Sindaco e tutti i partiti politici che fanno parte della maggioranza per la fiducia accordatami. Sicuramente proseguirò il lavoro intrapreso dall'assessore di missionario Massimo Santone. Infatti presumo che in settimana presenteremo alla stampa il calendario estivo. Il calendario estivo che sarà probabilmente ricco anche perché è a ricoprire circa due mesi e mezzo dei mesi centrali. Sì, abbiamo cercato un attimino di ricoprire maggiormente ovviamente i due mesi estivi, ci siamo concentrati sui due mesi luglio-agosto, sarà sicuramente ricco ovviamente in base anche alle disponibilità economiche.